Ma il video? Si 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 sta registrato Ciao a tutti i fan della pagina dell'Ortoddio Ciao a tutti gli iscritti e al canale di Stefano Maggi Come ben sappiamo la masturbazione è un momento intimo per le persone Un momento in cui a nessuno piacerebbe essere disturbati Ma invece Giulietta non solo ama farsi i vitalini Ma ama farseli in mezzo alle persone Guarda che erano gli ospiti tipo Pierpaolo in mezzo al Prato Perchè lei è una ragionina felice Dai Giulietta vai a vedere come ti tocchi la pagatina Voraccio Come potete vedere Giulietta guardia la manina Però lei non fa con la lingua Lei fa direttamente con la mano Un po' e un po' Basta mi rifiuto Questa è la natura Questa è la dimostrazione La religione mi insegnò da piccolo Che la masturbazione era sbagliata Questo lo insegnano molte religioni E l'ennesima dimostrazione che le religioni si sono sbagliate E che invece la natura viene da molto prima De queste cazzanne religiose Sei d'accordo Pier? D'accordissimo Allora buone pippe Buone seghe Buone vitalini a tutti Dall'orto a Dio Buone vitalini a tutti